Come se comprendiamo perché, perché, siete rimasti un'ora così stupiti a guardare questo sublime programma. Voi veate che non fate niente, oggi vi è festa. Andate, viviamo per te, per te, la casa ci potete ammirare in questo stupendo e leggendario programma. Voi veate che non fate niente, oggi vi è festa. Come se comprendiamo perché, perché, siete rimasti un'ora così stupiti a guardare questo sublime programma. Come se comprendiamo perché, siete rimasti un'ora così stupendo e leggendario programma. Come se comprendiamo perché, siete rimasti un'ora così stupendo e leggendario programma. Grazie. Grazie. Grazie.